ciao a tutti ragazzoni bentornati su every eye noi siamo sempre gli atti gaming group oggi siamo io comando wolf super lord lemon che non so qual è perché dice ant no 1 e 2 e tu revenge con noi beh allora siamo su creo e siamo pronti per partire la prima volta facciamo sta mappa quindi sarà un casino però veramente sto brutto il momento sto brutto pelato a mario io so non lo so quale sparato ma che cazzo ha fatto allora aspetta allora dimmelo la cacca come la campi di te roba vabbè 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 venate in demanda ma ne tocca anfilasse nel suo buco io ne entro per primo ma come cazzo rega mamma mia la camo da schifo comunque non c'è una torcia che cosa come te fate con la f mario almeno le basi dal fly allora perché cammini e strusci il capo sopra il muro no io ma ma chi è sto brutto mando cazzo andate di qua andate 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 la donna mia rega oh basta ma sono venti volte da ammazzato sopra l'altro niente me la capa pure a me mario io ho scaricato due riguarda la dose ok io io se gioca e ci posso giocare gamera addosso eh tanto c'è questa posizione guarda lì guarda che bug oh oh mi son palla oh ok che cazzo so qui le saponette oh che è sto rumore le saponette ma non ricoglio le saponette che è sto coso oooooooo che è sto rumore rega chi è che si sta a fare le pugnette dentro al bagno oh è l'm4 e vabbè rega però le siringhe pigliatele ho pulato io le siringhe è uno che legge rega questo è uno colto o mi so che rega io mi sento male pochi si gioca non ci posso giocare perché ma perché mi avete fatto in sala ma perché l'ha capato così poi c'ho pure la pistola scarica c'ho che cazzo cazzo il bastone c'ho io abbiamo il bastone infatti che è meglio tecnicamente io ho il culato un m4 ma sono che fino a fatto uno passare la barba spigna tab c'è il coso fa l'inventario via con lo più di c'è un altro di quelle lì che leggi qua dove fammi vede è di qua guarda io il papo ci fu un ceppo dai io la ceppata ti è ceppata levate 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 lecce panna ma come te viena quel dio caro che è ti imparò io a legge quando non si deve l'ho ero io 7 proiettili e non è colpa mia d'acqua come le bestie sto gioco di cazzo oddio oh l'M4 no l'M6 si l'M4 un mezzo palestra vabbè in una pista cazzo de porta è chiusa aspetta aspetta che è rimasto indietro aspetta fammi cercare le porte segrete si le porte segrete cazzo usa madonna mia quanto lag a sto gioco de merda no ti preoccupare o 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 canale youtube degli atti gaming group mi raccomando veniteci a trovare commentate numerosi marecchi like un saluto da comando wolf super o 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